Per cui io non sono d'accordo che non spenderemo i soldi del Sud e non mi arrendo in questi due anni a non spendere i soldi che abbiamo a disposizione. Non mi arrendo. Dobbiamo spendere 21 miliardi da qui al 2015 e 16,5, mi pare di ricordare, sono nelle regioni del Sud. 16 miliardi a cui dovremmo aggiungere teoricamente i progetti FSC, il PAC che non è stato ancora speso, eccetera. Quindi non esiste un problema di disponibilità di risorse in questo momento.